Salve a tutti ragazzi, belli e brutti e iscritti, più di tutti, bentornati su Giovia F.D.S.P.O. Io sono Giovia F.D.S.P.O. e questo è l'episodio numero 6 della serie Scontro Tattitani, stagione numero 3, episodio numero 6. Prima di iniziare volevo dire di passare dal canale del mio grafico, troverete il link qui in descrizione, oppure l'annotazione qui in alto a destra, nel quale andrete direttamente sul suo canale. Fa anche lui video di foot e dunque passateci se vi va. Dunque, come state vedendo, ho cambiato la formazione e ho passato a destra, perché la vostra scelta nello scorso episodio è stata Candreva Tots. Dunque, Candreva Tots è stato come alla destra e quindi lo inserisco. Che dire di Candreva 88 di velocità, 84 di passaggio, 89 di dribbling, 68 di testa, 70 di difesa. Diciamo, buono come esterno destro, se avesse avuto più tiro, secondo me, come alla destra, se avessi stato il top. E dunque, ho applicato il cambio di ruolo a Candreva e sono pronto. Ho acquistato Pisano al posto di Antonino, sembra un argento. Comunque, andiamo, andiamo, andiamo. E dunque, la, 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 la squadra avversaria. Abbiamo un Rake di nuovo. Quando è che l'ho incontrato? Non mi ricordo, guarda. Poi abbiamo una difesa argento, un centrocampo argento con Quintero, Cucci e Martinez, 84, Sif, se non erro, Liff, non mi ricordo. Come attaccante. L'altro attaccante non me lo ricordo. Dunque, vediamo come procede. Martinez, attenzione! E va, fanculo! Era imparabile. Però Martinez ha quattro stelle piede d'Ebole, già, già. Però che cazzo, Chiellini, mamma mia, tienilo. Vai Di Natale, vai Di Natale, Di Natale, Di Natale, il tiro di Di Natale! E va, va, fanculo, che cazzo di merda, però, mamma mia! Non doveva segnare Vidal. Si è trovato. Cosa dovevo farlo? Devo passare a Di Natale. Ho tirato, ha sbagliato, ha segnato, ha fanbagno. Di Natale, vai che ora segni, Di Natale! Che silurata questa volta, il mitico Antonino, Tonino, Totò, Di Natale. Non vediamo in ripresa, non si nervosisce. Vai Di Natale. E stira, attraversa! Vidal, Vidal, gol inutile. Ma perché si trovava lì Vidal? E Di Natale, dove era? Non lo so, non lo so. Di Natale! Segna! Ma va a fanbaccio! Va a fanbagno, non va a fanbaccio! Martinez! No, hier! No! Ecco qua! E chi può essere? Il difensore centrale, bronzo. La caccata pazzesca. Di Natale, appalanti alla porta, sbaglia. Vai Di Natale, fai questo palonetto. Regalato questo gol. Ma noi ce lo prendiamo, perché due gol significherebbe un giocatore if. Ottimo dire. Di Natale, il tiro! Fuori! Fuori! Per Di Natale, che sta per essere a tu, per tu, col portiere. Di Natale, tira! Sì! 3 gol! 3 gol! Tonino di Natale! 3 gol! Toz! 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 Mi piace la parola, toz! Toz! Vai, toz! Per Tonino! Tonino! Il tiro di Tonino! Palo! Palo di Tonino! Finisce qui, dunque. 3 gol! 3 gol! 3 gol! Ah, bebe! Quindi, un toz ha scelta. Dunque, faccio una ricerca e vi dico il nome del giocatore. Intanto vediamo se Di Natale ha ricevuto la nomina di migliori in campo, anche se non fa differenza, giusto per sfizio personale. Vediamo un po' se è stata, infatti, 9,6. Dunque, aspettate qui. Allora, potrete scegliere tra Diego Costa Toz, oppure Aduriz Toz. Dunque, fate la vostra scelta commentando qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Qui è Joe Vispo, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao e alla prossima!